Un po' di sport ma neppure troppo visto che siamo a giovedì e quindi ci sono tanti programmi sportivi da seguire la sera su TVL. Iniziamo però dal podismo perché è partito, ma ormai un po' da tempo, il conto alla rovescia per la pistoia a betone. E questa sera torna sport d'estate, un'altra puntata da non perdere come sempre vi facciamo compagnia ogni giovedì sera su TVL per parlare di sport a 360 gradi. E questa è una puntata particolare perché conto alla rovescia, domenica 30 giugno si correrà la 47esima pistoia a betone, ultramarathon di 50 km ma che prevede anche tante altre gare, tanti altri eventi collaterali. Veramente un'ottima organizzazione che da tanti anni la Silvano Fedi porta avanti con tutti quelli che contribuiscono alla realizzazione di questo evento. Un grande evento che porta a pistoia tanta tanta gente e anche tanti corridori. Allora Guido Amerini è il presidente della Silvano Fedi, proprio in questa puntata parleremo un po' di com'è organizzata questa corsa, di quello che ci riserva in questa edizione. So che i numeri sono anche quest'anno. Sono circa 1700 persone che si daranno e vivranno il giorno del 30 giugno questa spettacolare manifestazione sui vari percorsi che compone la manifestazione. Sono circa 5 le varie manifestazioni che vengono svolte il giorno 30 della nostra manifestazione. E finalmente siamo arrivati alla 47esima ed è una grande fatica riuscire a portare avanti tanta gente e tante persone sul lungo questo percorso. Sono già stati fatti, li faremo anche questa sera, qualche nome su chi potrebbe essere il favorito fra uomini e donne. Perché anche le donne si stanno mettendo in evidenza in questa corsa. E' la parte, diciamo, con le part condition che c'è da queste parti qui, noi si parla molto al femminile, c'è circa 170 donne che si daranno battaglia fra San Marcello e la Betone e la Moroni fra tutte. E questi sono i numeri, diciamo, per riuscire a fare una manifestazione di successo. Pistoia-Betone che non è appunto soltanto una corsa podistica e molto di più, non è soltanto una gara competitiva. Ve lo racconteremo questa sera a Sport d'estate, uno sport d'estate che sarà dedicato anche ad altro, come ad esempio al basket femminile. Quindi non perdetevi questo appuntamento, vi aspettiamo alle 21 circa in appunto qua su TVL. Ora è ufficiale, Nicola Brienza è tornata alla palacanestro Cantù, il migliore allenatore della Serie A di questa stagione, quindi lascia Pistoia, questo lo sapevamo, per far ritorno nella sua città natale. I vertici del club in questa circostanza, del club dell'estra Pistoia, ci tengono a ringraziare coach Nicola Brienza per il lavoro di questi tre anni, svolto sempre con il massimo impegno e professionalità, sapendo che i traguardi raggiunti sono tra i più importanti della nostra storia. A Nicola Brienza è il nostro sincero in bocca al lupo per il proseguo della propria carriera da allenatore. Ci uniamo a questo augurio anche noi in bocca al lupo a Brienza per il futuro della sua carriera. A Montecatini si è pensato al progetto Aarons Young. Tornare a creare giocatori di livello in Val di Nievole è uno dei due obiettivi di questo progetto. Il secondo è intensificare la promozione della palacanestro e il lavoro sul campo, sul territorio della Val di Nievole. Le società aderenti al progetto, che conta circa 700 tesserati, oltre al MTVB Aarons sono Montecatini Terme Basket Junior, Centro Minibasket Montecatini, Nico Basket Femminile Ponte Bugianese, Masse Cozzile Basket, Cestistica Audace Pesce, responsabile tecnico e Alessio Marchini, che è anche vice allenatore della prima squadra di coach Federico Barzotti. A proposito di basket, ma andiamo in serie sci, Fabio Riccio non farà più parte della prima squadra della Valentina Sbottegone, il campionato appena concluso è stato uno dei protagonisti per il raggiungimento della salvezza. Un grande in bocca al lupo a Fabio Riccio per il proseguimento della sua carriera da parte del club giallonero. Poi Giulio Gambassi sarà invece il coach di Endy Asfalti Agliana, anche per la prossima stagione. Dopo un'annata ricca di soddisfazione, la società del presidente Simone Caramelli ha deciso di rinnovare questo connubio. Ringrazio la società per avermi rinnovato la fiducia anche per la prossima stagione, ha detto. Coach Gambassi, l'obiettivo principale sarà come sempre quello di continuare il nostro percorso di crescita. Ancora vittoria per la Silvano Fedi, Sergio Gelli ha vinto nella staffetta mista categoria oro, la staffetta Urban Running di Castelfiorentino, mentre Michaela Robu, il suo nome lo sentiamo spesso e volentieri perché sta vincendo veramente tanto, prima assoluta nel trofeo Olympia Team Running a Calenzano. Poi ci sono tanti altri risultati per quanto riguarda la Silvano Fedi. Per lo sport ci fermiamo qui, come detto ci sarà poi tutta la serata dedicata, breve pausa e poi le ultime notizie.